Una vicenda vecchia, chiusa e già chiarita con gli inquirenti sette mesi fa, rispolverata da Lega e 5 Stelle solo per delegittimare me e strumentalizzare la campagna elettorale in Abruzzo. Risponde così Giovanni Legnini alle notizie diffuse sul suo nome scritto nell'agenda dell'imprenditore barlettano Luigi D'Agostino, accusato di corruzione in atti giudiziari. Indagini che hanno portato all'arresto dei magistrati del Tribunale di Roma, Antonio Savasta e Michele Nardi, con l'accusa di aver intascato tangenti al fine di aggiustare sentenze. Non servono commenti perché è una vicenda vecchia, chiarita, ammesso che vi fosse qualcosa da chiarire, definitivamente superata, non capisco come si spinga fino a questo punto di strumentalizzazione e di evidenziazione di una non notizia. Legnini ha inoltre chiarito la sua partecipazione ad una cena privata a casa di un conoscente dove era presente anche il giudice Savasta su cui pendeva già un procedimento disciplinare. Il GIP precisa però che della presenza di Savasta a quella cena Legnini non era previamente informato o comunque a conoscenza. È una cena privata di un mio ex collaboratore dove c'era una persona che non ci doveva stare, sono stato molto freddo con lui, l'ho tenuto distante e finita lì, punto. oggi se ne occupò la stampa sette mesi fa, fu da me chiusa, chiarita, definita, ho riferito tutti i magistrati. Perché tirare fuori proprio ora una vicenda passata alla quale il candidato governatore dell'Abruzzo sarebbe del tutto estraneo? Sono assolutamente tranquillo, lo deve chiedere la Lega e il Movimento 5 Stelle. La solita macchina del fango, sostiene Legnini, quella utilizzata da Lega e Movimento 5 Stelle, riaccesa e messa in moto ad ogni competizione elettorale. Grazie.